Salve a tutti, in questo video parliamo del metallo d'alta qualità. Ci sono, diciamo, due modi per ottenerlo, a parte quando lo trovate casualmente. Il primo è, ovviamente, cercarlo in natura e il secondo è crearlo attraverso il riciclatore. Allora, vediamo intanto in natura, nel senso che se troviamo il metallo grezzo possiamo trasformarlo, ma non deve essere metallo grezzo qualsiasi, ma deve essere il metallo grezzo di alta qualità. Allora, vediamo che cosa intendo. Allora, ogni tanto voi potrete trovare il metallo da picconare, per così dire. Eccolo qua. Se voi picconate otterrete metallo grezzo normale e poi anche un piccolo quantitativo di metallo grezzo di alta qualità, che nel mio caso è proprio qua, alla fine. Eccolo qua, metallo grezzo di alta qualità. Questa piccola unità può essere inserita nella fornace e fatta fondere. Come si costruisce la fornace? Semplicemente si va in fabbricazione nell'inventario, quindi andiamo qua. Oggetti, fornace, sevono, pietre, legno e carburante di bassa qualità. Una volta costruita serve il carburante, quindi legno, lo mettiamo nella fornace e poi il materiale. E bisogna ovviamente accendere la fornace. Questo è il metallo grezzo classico, che può essere fuso in frammenti. Quindi non metallo di alta qualità, ma frammenti. E vediamo adesso che cosa intendo. Basta aspettare un po'. Ed eccoli qua. Questi sono i frammenti. Noi vogliamo il metallo di alta qualità. Quindi ci piazziamo il metallo grezzo di alta qualità. Aspettiamo. E vediamo che viene fuso con calma. Eccolo qui. Ma dal momento che non possiamo trovare facilmente grandi quantità di metallo grezzo di alta qualità, è meglio andare a cercare il riciclatore. Che cos'è il riciclatore e dove possiamo trovarlo? Eccolo qua. Questo è il riciclatore. Lo possiamo trovare in alcune strutture. Ed ha questo pregio di regalarci materiali se andiamo a dismettere oggetti. Ecco qua. Metto molle, cancelli, cose, lamiere. Ci possiamo mettere quasi qualsiasi cosa. E poi andiamo ad accenderlo. E ci restituisce materiale. Quindi legno, rottami. Eccolo qua. Metallo di alta qualità. Frammenti. Quindi ci restituisce di tutto il riciclatore. Ecco qua. I rifiuti si possono reinserire di nuovo nel riciclatore e ci daranno altri frammenti e altro metallo ad alta qualità. Vediamo un po'. Eccolo qui. Quindi il mio consiglio è quello di trovare un riciclatore e andare a piazzare materiali di ogni tipo per andare ad ottenere il metallo. Un saluto a tutti.